Un impianto di torrefazione 4.0 in Calabria, che consentirà di aumentare la produzione e di aprirsi a nuovi mercati. A realizzarlo sarà Caffè Aiello, grazie al contratto di sviluppo, l'incentivo gestito da Invitalia, che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni. Il bilancio per quanto riguarda il contratto di sviluppo è stato, a mio avviso, nonostante siamo nella fase di rendicontazione, positivo. Positivo perché all'intomani mattina della firma dell'accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi con Invitalia, ci è stato comunicato sia l'ammissibilità sia il decreto e dopo due o tre mesi abbiamo avuto la prima tranche dell'investimento. Un intervento determinante, ci apre una finestra nel monto del mercato del caffè. Siamo pronti a sfidare qualsiasi tipo di concorrenza perché ci ha resi competitivi, ci ha fatto sì che noi ci potessimo dotare di un impianto tecnologicamente d'avanguardia, un impianto a 4.0 per cui è stato molto importante e determinante. Grande soddisfazione per il rapporto con Invitalia. Hanno creduto nel nostro progetto, si sono messi a disposizione per qualsiasi tipo di problematica, hanno gestito insieme a noi e ai nostri tecnici in modo esemplare il progetto, ci ha resi non solo soddisfatti ma ci ha resi anche molto orgogliosi che è stata fatta qualcosa di molto importante al Sud. Un importante attrattore quindi di investimenti al Sud. Sud che onestamente ha bisogno di recuperare questo divario che c'è nel mondo della produzione, per cui ci dà modo di poter produrre, di poter assumere del personale.